obiettivo salute di nicoletta carbone eccoci qua è uno degli appuntamenti più attesi del mese raffaele morelli è qui quindi obiettivo salute chiocciola radio 24 punti di pagina del nostro programma rimaniamo in contatto intanto grazie grazie a voi grazie a te ti aspettano tutti ti aspettano tutti per me questo è un appuntamento importante perché nicoletta è di tutto il mondo giornalistico quella che comprende meglio le cose che dico anche perché vivono dentro di lei vedi nella vita noi non possiamo imparare assolutamente noi possiamo riconoscere ciò che c'è già dentro di noi non uno dice imparerò a diventare meno aggressivo no io imparerò a riconoscere dentro di me ciò che già c'è che non vedo come il noce vede la noce che verrà come il seme del limone vede i fiori bianchi che verranno no non ha imparato non ha imparato c'è già dentro tutto c'è già dentro tutto questa è una partenza decisiva per noi questo fa la differenza ma noi non riusciamo a fare questo passaggio in modo naturale cioè a scoprire dentro di noi quello che già siamo ci sembra un'operazione impossibile noi cerchiamo sempre di essere no migliori di fare qualche cosa che ci rende più buoni più belli più prestanti più giovani più simpatici più intelligenti altro da quello che siamo che fatica guarda noi dobbiamo imparare a fare una cosa importante non condurci e qualsiasi disagio a spersonalizzarlo mi ha mandato un email bellissimo la signora a rizzo e ne parlo su rizzo psicosomatica di questo mese ne dicono e ne parlo anche sul manuale di autoguarigione che ha legato a rizzo no che è questo che va sì perché vedi questa signora mi scrive mi dice io devo ringraziarla perché è morto il mio compagno un dolore pazzesco perché eravamo legatissimi io ho più di 50 anni e ho fatto quello che diceva lei sentire il dolore basta sentivo il dolore il dolore il dolore no lei guardava tutti i video perché che io faccio perché lei voleva sentire solo il dolore e basta l'ha capito benissimo questo poi mi è venuta in mente un'altra cosa del fare le cose con le mani fai le cose con le mani un'altra email mi è arrivata mi ha detto io dottore ricamando e ricamando come una pazza no io sono uscita da un disagio dell'abbandono del mio partner lei cosa cosa io un'altra cosa che dico è ricordati una scena della tua infanzia della tua adolescenza dove tu stai facendo una cosa che ti piace da impazzire basta chiudere gli occhi vuole tre secondi per trovarlo e questa signora mi ha scritto io da ragazzina impazzivo per cantare andavo a cantare con le mie amiche sa cosa ho fatto le sto scrivendo perché sono in treno e sto andando a un coro dove io mi sono da due anni il suo compagno è morto quattro anni fa io da due anni partecipo a questo coro canto e poi altra cosa cosa che non avrei mai detto potesse accadere mi sono innamorata allora io le ho detto guardi che mi sono fatto dare il suo telefono l'ho chiamato guardi che la cosa migliore che possiamo fare per chi non c'è più per chi abbiamo amato è ricordarlo nella gioia nel piacere come dicevano i grandi saggi antichi non ricordarlo nel lamento e cosa mi è capitato perché alla fine soffriamo sempre perché parli sempre di te no è vero parliamo sempre di noi si si il nostro dolore diventa cronico così no cosa posso fare per lui che non c'è più lascia stare i medi tutte queste scemenze no ma la sua immagine vive dentro di me e dentro di noi abita il mondo dei sogni il mondo dei sogni occupa metà della nostra vita andiamo a letto a dormire sogniamo 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 ogni ogni 40 50 minuti noi sogniamo per un quarto d'ora miliardi di immagini siamo soprattutto immagini più che realtà allora dobbiamo avere cura noi no chi non c'è più immaginarlo fare le cose fai il lavoro che vuoi ma ogni tanto trova lo spazio da dedicare a fare ciò che ti piace ecco è questo che noi non lo sappiamo più che cosa ci piace che cosa desideriamo svincolato dagli altri in questo manovale di otto guarigioni un signore bellissimo posso solamente dire che cosa si trova qua dentro io non ho bisogno certo di far pubblicità raffaele morelli per cui io parlo di dei temi che sono affrontati nei numeri di rizza di rizza psicosomatica anti age rizza relax perché trovo che tra di loro ci portino ogni mese a fare un lavoro su di noi questo manuale di auto guarigione è una guida per affrontare da soli tutti i momenti difficili quel da soli a me piace un sacco perché ti mette nella condizione di tirare fuori le risorse che sono in te e che noi le abbiamo sotterrate per superare un abbandono per vincere ansia e stress per trovare la propria strada per risolvere i conflitti e poi c'è una una frase che io mi sono da quando raffaele mi ha fatto vedere il manuale di auto guarigione ci sto pensando e quando inizia a guardare la vita in un modo nuovo i problemi si risolvono spontaneamente e ma e e funziona guarda io mi diceva hai un esempio io sono d'accordo no che esiste la superficie a cui dobbiamo adattarci noi dobbiamo adattarci alla superficie la vita di tutti i giorni ai figli al lavoro al marito alle mogli a quel che volete voi alle mogli e mi piace al marito uno alle mogli però però c'è anche un lato nascosto quel lato nascosto il lato che fa sì che il seme diventi un fiore questo lato nascosto sta nascosto non vuole essere visto allora cosa devo fare io cosa posso fare di importante ricordarmi che quando dico ho un problema la superficie sta prendendo il sopravvento perché il problema è sempre identificato la superficie mio figlio che non si comporta bene mio marito che non mi capisce oppure che mi tratta no tu sposta lo sguardo no sul buio come dire dai guidami tu non so chi è quel tuo a cui mi rivolgo dai pensaci tu no in modo che io esca dalla superficie perché sai cosa succede nicoletta che se vivi nella superficie vivi nella somiglianza diventi un animale in gabbia vivendo nella superficie dopo un po non ti sembra di aver più nessun talento quando tu dici chi sta imitando chi sta imitando bravissima chi sta imitando no allora sai cosa vuol dire vivere nella superficie che sei come un pesce fuor d'acqua i pesci fuor d'acqua muoiono questo è il problema molti dei nostri problemi dei nostri disagi sono legati al fatto che siamo sulla circonferenza non sul centro allora cosa puoi fare di importante smettila di dirti che hai un problema per prima cosa i problemi non esistono perché il problema si affaccia ho un problema con mio marito bene si affaccia adesso lo guardo intanto guardo il disagio che provo perché spesso il profondo il seme ti chiama attraverso il disagio sta dicendo nicoletta 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 smettila di occuparti di cose inutili ricordati che c'è qualcosa dentro di te che sa dove andare ecco ecco perché bisogna ogni tanto svuotare la mente qualcosa dentro di te sa dove andare come sa fatti venire il ciclo mestruale sa quando farlo venire ti fa crescere i capelli questo qualcosa ha scelto quel volto lì non un altro quel volto lì mi ha scritto un signore no per dirmi no e lo portato sul manuale di autoguerrigione vede dottore io faccio un lavoro di commercialista e però il mio sogno il mio sogno era diventare un regista però io continuo a sognare diventare un regista ma continua fare commercialista il mio sogno non si è realizzato mi fa quindi la mia vita è fallita no 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 non ragionare così così ragiona in modo massificante il mondo no no il commercialista aveva bisogno per l'anima di sognare il regista lui che sul set che incomincia a immaginare una scena poi un'altra un'altra ancora il cervello non ti ha detto di cambiare lavoro ti ha mandato un sogno perché tu recitando il regista dentro di te completi l'uomo dei conti quindi noi non dobbiamo cambiare ma completare noi non dobbiamo cambiare ma completare e soprattutto non pensare non desiderare che i sogni si avverino ma sogna è molto sbagliato dire il mio sogno è questo non sia vero o sbagliato no il mio sogno è questo e questo sogno ha un senso che io non so allora se tu vivi due parti non una sola la donna che sogna e la donna che vive la vita di tutti i giorni tu completi il processo l'energia sottile energia più pesante della vita si uniscono e allora tutti i miracoli sono possibili e quando noi diciamo finalmente dopo tanti sforzi e tanti sacrifici sono riuscita a realizzare il mio sogno ti cito il caso di una mia paziente dottore dopo tanti anni dopo averlo inseguito per tanti anni finalmente lui si è separato da sua moglie e adesso viviamo insieme insieme il mio sogno è realizzato io le dissi questo la signora venne da me otto mesi fa mi ha detto guardi che quando i sogni si realizzano è un momento molto pericoloso molto pericoloso perché l'anima attraverso il sogno cercava un energia chiudendo il lato sognante pensando che si è diventato soltanto realtà da mali e così è stato questo uomo che era l'uomo dei suoi sogni l'uomo della sua vita standoci insieme le piaceva sempre meno lo trovava molto banale mentre quando lo frequentava andava a letto c'erano scintille adesso c'era il gelo lo desiderava sempre meno fino a che è incominciata la depressione mai mai cercare che i sogni si realizzano perché i sogni si realizzano senza sforzo tu sogni per esempio tu sogni di diventare una scrittrice bene sognano e poi non pensarci più se dovrai fare la scrittrice l'anima ti porterà a farlo se invece tu continui a pensare alla scrittrice che devi diventare tu incominci il tormento sogna e basta i sogni siccome noi siamo divisi in due di notte sogniamo e durante il giorno viviamo ecco porti il regno del sogno nel giorno e lascialo lì ci sono delle persone che si sentono ingabbiate al punto da non desiderare più nulla di non avere più sogni la mia vita è talmente triste ho avuto così tante delusioni che non ho più fiducia non mi vedi un altro modo questo è abbastanza frequente quando noi sarà capitato anche a noi di pensare questa situazione no di raccontare questa condizione di ricevere il racconto di un amico cioè ormai non ho più fiducia non ho più la forza neanche di sognare non mi vedo in altro modo che non questo tutti mi hanno deluso guarda quello che tu dici è così vero che occupa secondo le statistiche secondo i sondaggi una persona su questo tema la mia vita è così mi sono capitate delle cose non ho più entusiasmo non ho più voglia di fare cose nuove sì sono un fallimento ma arrivano a me a rizza spesso delle mail di questo tipo no che dicono non so neanche cosa voglio sono scontenta non ho interessi in questo caso la cosa importante è arrendersi è molto importante vedi se torniamo a quel ragionamento il seme del limone messo nella buio della terra senza saperlo fai fiori fai fra quei fiori profumati strepitosi come il ciliegio no certo non gliela ha insegnato nessuno allora la tua scontentezza è la lontananza dalla tua semenza dal tuo sé avrebbero detto i grandi psicanalisti di un tempo ti stai allontanando senza saperlo perché sei stato catturato nello sguardo dai progetti a mia sorella per esempio ce l'ha fatta dirigere l'azienda io non c'entra il mio amico ha tantissime storie io no togli il progetto dalla mente togli il giudizio togli la critica affidati al disagio non dirti più come devi essere perché le persone che hanno conflitti spesso hanno un'idea fissa statica rigida del loro successo del risultato da raggiungere d'altra parte però siamo tutti cresciuti e stati educati con sì sì concreto devi avere degli obiettivi devi prepararti per raggiungere dei risultati devi pianificare la tua vita e la scuola e l'università e il master alcune relazioni la frequentazione di alcuni ambienti le richieste e le contrattazioni al lavoro noi siamo i soldi i soldi i soldi siamo stati organizzati dal dagli stimoli che ci arrivano dalla famiglia dall'ambiente in cui viviamo siamo pressati per chiederci chiederci delle cose raggiungerle quando queste non ci sono allora noi siamo fatti di due lati uno che deve adattarsi alla realtà perché qualsiasi pianta dove la pianti deve essere piantata in un terreno in cui può fiorire io c'ho una casa al mare dove c'era un melograno che era piccolino non cresceva allora un giorno è stato giardiniere scusi ma come mai sta pianta e dottore lo spostiamo la spostiamo di un metro si fa dei frutti dei fiori un metro un metro mi viene in mente per parlare di sport no pirlo uno dei più grandi giocatori che ha avuto il mondo quando era all'inter non era esploso al milano ancelotti l'ha spostato di 15 metri in campo è diventato uno dei più grandi del mondo quindi sei nel posto giusto sì sei nel posto giusto ma posizionati meglio dirti che hai sbagliato che non ce l'hai fatto autocriticarti non non cambia la partita non serve anzi gurjev che è stato un grandissimo saggio diceva che nella vita il più grande peccato sai qual è nicoletta no vediamo se l'ho fatto il più grande peccato che purtroppo facciamo tutti è fare cose inutili cose non necessarie bestiale quante cose inutili facciamo ma io ti aggiungo e l'ho scritto anche sull'inizio di questo mese quanti pensieri inutili abbiamo vorrei recuperare il mio amore dieci anni fa non c'è più e questo lavoro però se lo faccio non c'è più allora prova un attimo a dirti io non ho un progetto per me non ho una direzione da prendere io sto qui con me così come sono allora il tuo terreno interiore non viene più riempito da autocritiche certo sono indeciso bene accolgo l'indecisione sono insicuro accolgo l'insicurezza young quando compie 80 anni forse la più grande coscienza che ha avuto il novecento la sua la sua allieva prediletta anna iaffè gli domanda professore ma dov'è che ci arriva 80 anni sai cosa risponde vedi cara anna non ho un parere da dare su di me non so se valgo se non valgo francamente ma in questo stato interiore dove non ho niente da dirmi io sono nella casa del mondo ecco se tu non hai niente da dirti questo dobbiamo insegnare non imparare a non dirsi niente allora l'essenza l'essenza scende in campo scende in campo in un modo che tu neanche ti aspetti sai quando io so che un paziente sta meglio quando viene in studio e mi dice ma sa dottore che ho visto ma sai che non ci avevo mai fatto caso quella pianta lì la magnolia l'ho vista piena di fiori bianchi pazzesco ma c'era sempre stato non avevo mai notata vuol dire che il suo sguardo è uscito da se stesso lo sguardo è uscito da se stesso e come dicevamo prima quella signora no signora lei in che fase è del ciclo anziché pensare bene con il suo marito pensi che fase del ciclo sono dell'ovulazione bene l'ovulazione vuol dire che ci sono energie a cui lei non sta badando perché quando c'è l'ovulazione non ti metti a scrivere a disegnare a dipingere che sei nella massima creatività che esiste anziché pensare al problema con tuo marito che è lo stesso da 15 anni ma sai perché è lo stesso problema da 15 anni quello con tuo marito perché sei vecchia sei vecchia nella testa perché il cervello ogni minuto è nuovo come può un problema restare 15 anni se tu guardi sempre il problema continua a ricrearlo liberati dal problema fai altro fai altro come dicevano gli antichi taoisti allora incomincia a nascere una nuova donna la nicoletta che è altro da ciò che fa nel quale è altro da ciò che fa sai cosa succede nascono nuove energie novalis diceva che il chicco di grano per questi sono i grandi il chicco di grano immesso nella terra coperta dalla neve nel freddo che più freddo non si può sogna la spiga che verrà e per questo la fa ma questo mi piace un sacco tu sogna senza aspettarti il risultato sogna senza aspettarti il risultato questo modificherà il cervello profondamente perché porterà l'energia del sogno che l'energia eterna del senza tempo i sogni non sappiamo quanto durano un secondo ci sembra un anno no è vero ma i sogni noi li condividiamo li teniamo per noi per noi ma noi mai condividere i greci quando si incontravano non dicevano come stai dicevano cosa hai sognato il sogno ti ha detto qualcosa per me ti ha parlato di me il sogno perché si aspettavano che i sogni dicessero cose che la vita reale non può dire perché è così dottore guardi io ero in macchina e dovevo fare in fretta dovevo fare in fretta questo business dovevo farlo a tutti i costi e fra me e me pensavo ma hai preso un aereo sei appena sceso ti metti in macchina sei stravolto no non pensi che puoi anche avere un incidente fra me e me pensavo mentre lui me lo raccontava e cosa ti cambiava un business in più tu che sei ricchissimo io pensavo dentro di me tutto questo ma dottore senza accorgermi un colpo di sonno ha sfiorato il guardrail la macchina ha fatto tre testa a coda no capottato macchina distrutta sono uscito sì con qualche tra piccolo trauma niente di più la notte la notte arriva un sogno la notte arriva un sogno diamogli il nome carlo c'è un'entità misteriosa dietro di lui che sembrava aspettarlo ho capito che quella era la morte e gli ho detto ma perché non mi hai preso lei non mi ha risposto ma io ho capito perché ho altre cose da fare altre cose da fare nessuno è nato solo per fare il business nessuno noi siamo nati perché con una capacità ne abbiamo anche altre quindi quell'entità gli ha fatto capire che c'era altro da fare così è stato è cambiata la sua vita capisci un sogno gli ha cambiato la vita e anche gli incubi che tutti temono ne parlo spesso sui nostri giornali gli incubi che tutti temono dottore ero chiuso nella stanza a un certo punto la porta si apre no allora sa cosa ha fatto ho preso il comodio l'ho messo contro ma la porta si apriva lo stesso ho spostato il letto tutti i comodini li mettevano sopra l'altro ma la porta si apriva lo stesso di più di più mi sono svegliato in preda al panico ma perché non pensi che puoi ragionare così dire c'è un ladro un assassino un mostro che mi vuole assalire oppure dire guarda che tutte le tue difese tutto questo controllarti tutto questo recintarti guarda che c'è qualcosa che vuole entrare ecco cosa sono i disagi energia che vuole entrare questo sono i disagi sono energie che vogliono entrare l'ansia la pausa la tristezza sono energie che vogliono entrare dentro di te perché perché ti sei confinato quando quando hai l'ansia quando le paure quando il panico quando sei triste chiediti ma io mi sono confinato ed è questi di questo parlate su risa relax vincere l'ansia senza psicofarmaci il programma facile di 10 minuti al giorno che ti aiuta ad affrontare con calma interiore le paure che sono quindi vedere queste energie che ci entrano su risa relax ho non mi intendo di tecnica però sono riusciti i nostri esperti a fare in modo che io parlassi no no e in sette otto minuti raccontano esperienza come ci si può rilassare quindi immaginati di essere nella penombra c'è la mia voce che accompagna per sette otto minuti dicendo guarda che in questo momento immaginati di essere nell'atrio di una stanza e vede tante porte che si affacciano lì c'è la porta della tristezza lì delle paure lì del disagio lì dell'ansia lì dei conflitti matrimoniali e guarda tutte queste porte e per nove minuti spiego cosa fare porta per porta ma perché vedi ogni volta che noi passiamo anche noi se noi dobbiamo dare spazio anche cosa ci vuole chiudere gli occhi e dire proviamo sono qua nel buio nel vuoto e sento il vuoto 36 3 secondi 5 secondi ma ogni tanto devi stacca anche quando fai l'amore anche quando fai l'amore per quanto sei coinvolto coinvolto ogni tanto mentre sei lì estraneati un momento percepisci che sei lì percepisci che sei lì a cosa serve questo a sentire l'eros indipendentemente da chi c'è a ricordarti che stai facendo l'amore con lei o con lui ma stai facendo l'amore con la con negli atti più profondi di te con il sottile che c'è in te con l'energia antica col tuo sogno allora l'amore si completa lei è la mia gioia ma dentro di me c'è la gioia che viene da chissà dove così ragionavano gli antichi da parte sai noi siamo sempre proiettati a essere in connessione con l'altro a pensare l'altro ma nel comandamento ama il prossimo tuo come te stesso noi abbiamo dimenticato non sappiamo più amarci vero amare le tue contraddizioni facciamo così fatica tu che ami molto gli animali i miei figli che sono grandi studiosi del mondo animale gli animali fanno cose pazzesche non c'è religione della terra o tradizione dagli egizi gli ebrei il cattolicesimo l'induismo che non abbiano gli animali sacri perché questo perché oggi noi sappiamo che il cervello antico se io tiro una linea dove si congiungono queste due dita in mezzo in questa zona lì noi siamo animali antichi noi siamo esseri antichi nicoletta siamo antichissimi smettila di ragionare con la modernità smettila di pensare che i rapporti devono funzionare come l'hai imparato sui io dico su bolero film o su grand hotel o alla televisione gli amori sono stati spontanei ma sai cosa fa l'uccello giardiniere fa un preparo una specie di nido grande mette dentro i fiori no e aspetta che la femmina sono uomini che mettono dentro i fiori senti quindi quando regaliamo un mazzo di fiori sappi che l'uccello giardiniere ci aveva già visto quindi no che cosa fai mi regali i fiori ma l'uccello giardiniere allora siete fantastici coppia eccezionale diciamo un po' siamo una quanti pensieri inutili facciamo ci scrive maria teresa sulla nostra pagina ma come si fa a fermare i pensieri domandona noi dobbiamo fermarli o lasciarli no 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 dobbiamo tu bisogna usare lo sguardo qui entriamo in uno dei regni più profondi del cervello no noi dobbiamo usare lo sguardo come occhio che vede in questo momento vedo il giornale così guardo il pensiero che inutile che mi disturba io lo guardo il mio lavoro è finito non devo dirmi ti mando via no constato che dentro di me nel recinto della mia interiorità ci sono pensieri che forse non dovrebbero starci ma io li lascio lì questo lasciar lì ciò che non ci piace e guardarlo e guardarlo senza il commento questo è stare con se stessi poi posso fare un'altra cosa chiudo gli occhi e immagino immagino di essere su un prato che corro immagino di avere vicino a me un animale per cui c'è un'affinità guarda che in psicoterapia una cosa che faccio spesso faccio immaginare un animale affine perché un animale affine perché dentro del tuo cervello affine come? affine come lo scelgo l'affinità in base a che cosa? tuo cane non c'è una simpatia col tuo cane molto guarda il tuo cane sì un po' anche forse mi assomiglia secondo me il tuo cane rispetto a te sai cosa fa percepisce meglio di te ciò che accade ma certo tu stai arrivando lui lo percepisce giusto e incomincia quella affinità uno dice beh è un'affinità no no è molto di più perché nel mio cervello io libero senza saperlo mentre immagino non so un'aquila io libero in me un'energia che vola se tu prendi un bambino piccolo di 4 5 anni dici chiudi gli occhi immaginati che c'è un aquilotto sì li vedi sì vedi lì sì ci sono i piccoli sì ci sono e cosa fanno i piccoli e la mamma li sta andando da mangiare in un attimo noi non siamo più abituati i bambini usano il cervello perfettamente no allora non contestare i tuoi pensieri lasciarli li lasci li guardo li lascio e poi mettiti a fantasticare allora la cura con le immagini è meravigliosa ci scrive chiara ce ne può parlare di più l'abbiamo fatto anche senza saperlo e magia vero perché abbiamo smesso di essere magici poi insomma una cosa saluto da versavia bellissime parole grazie per il tuo tempo parole molto preziose eccetera eccetera magia cosa postati in un luogo dove puoi fiorire fai ciò che ami ci scrive maria teresa più che fai ciò che ami che diventa uno sforzo se fai ciò che ti viene facile all'inizio non lo sai ma tu dici cosa mi viene facile quando eri bambino lo sapevi perché lo facevi i bambini anche nei più grandi dolori della vita si mettono a fare ciò che gli piace di più giocare e quando giocano i bambini fanno vivere più personaggi oggi una delle poche cose che sappiamo del cervello e che il cervello ama mascherarsi adesso siamo nel periodo del carnevale ci avviciniamo no allora ogni tanto cambiati il nome cambiati il nome anziché rossana chiamati barbara scegli un nome che ti piace e dici oggi signore e signori lo dico a me non lo dico gli altri certo perché se no mi vesto da barbara vedrai che come barbara non ti vesti come rossana facciamo questo esercizio e poi possiamo questo possiamo raccontarcelo e poi glielo facciamo sapere il prossimo mese quando tornerà fantastico provate a farlo mi cambio il nome se chiudo gli occhi mi cambia il nome mi immagino con un altro volto o con il mio volto col volto di una compagna di un'amica di una insomma cambiati il nome e cambiandoti il nome io l'ho cambiato ecco io non devo dirtelo ma io adesso faccio anna benissimo che vestito si messa anna che cibi preferisce con che uomo piacerebbe uscire a cena vedrai che cambiando il nome tu incomincia a fare cose non consuete gli antichi tutti gli ordini iniziati ci cambiavano nome tutti ci sarà un motivo allora cambiamoci nome grazie non cambiamo però raffaele morelli noi lo vogliamo così com'è perfetto un abbraccio a tutti grazie a tutti